Ciao a tutti, buongiorno a tutti. Voglio parlare in questo video delle emozioni che seducono. Non c'è dubbio che per sedurre, per coinvolgere, per far innamorare, dobbiamo imparare a stimolare emotivamente le persone che desideriamo. Se non riusciamo a fare questo, non riusciremo a sedurre, non riusciremo a coinvolgere nessuno. Quindi un'analisi nostra, delle nostre emozioni e delle emozioni delle altre persone è fondamentale per riuscire a far innamorare. In realtà spesso abbiamo una falsa credenza, quella di credere che l'innamoramento sia un qualcosa che si manifesta in modo spontaneo, naturale. Uno dice, boh, sei innamorato e quindi la cosa finisce lì. In realtà se noi crediamo in questo paradigma, non riusciremo a coinvolgere e a far innamorare nessuno, perché è proprio il paradigma che è sbagliato. Il paradigma che cos'è? È la visione di mondo che io ho. Se io ho una visione di mondo nella quale non ho la capacità di influenzare, di influire sul mio innamoramento e su come produrre l'innamoramento, il coinvolgimento nelle altre persone, non riuscirò mai a far sedurre e a far innamorare qualcuno. Invece partire dal paradigma, che è anche un paradigma di umiltà, che significa imparare veramente a mettersi in gioco, che significa veramente imparare a esplorare quali sono le nostre potenzialità. E così io parto dal paradigma in cui vivere le emozioni è possibile, vivere le emozioni in modo strutturato, pilotare le nostre emozioni è possibile, conoscere meglio le nostre emozioni è possibile per utilizzarle da un lato per amare noi stessi, perché l'amore per se stessi non può prescindere dall'equilibrio emotivo. Non è possibile essere in disequilibrio emotivo e amare se stessi. Sono proprio due cose incompatibili. Quindi l'equilibrio emotivo significa stare bene con se stessi. Dovunque io sono, sto bene. Non mi importa delle situazioni al contorno, non mi importa di nulla. Dovunque io sono, sto bene. Questo è un fatto fondamentale, perché mi porta ad avere l'armonia interiore. È ovvio che una persona che è armonica attira. Per legge d'attrazione noi tendiamo ad attrarre le situazioni che sono simili a noi. Quindi nel momento in cui staremo, avremo l'animo puro, diciamo così, attireremo persone dall'animo puro. E quindi potremo vivere più facilmente le relazioni sentimentali. Quindi la gestione delle emozioni verso se stessi è fondamentale per far innamorare gli altri. Poi ovviamente, come corollario, dobbiamo imparare anche a gestire le emozioni dell'altro, per far innamorare. Gestire le emozioni dell'altro vuol dire rendersi conto di quali sono le emozioni che vive un'altra persona. Perché, diciamo, l'assioma è che chi amplifica il contenuto emotivo, chi amplifica il quid emotivo, seduce. Chi riduce il quid emotivo, non seduce. Anzi, spesso viene sedotto perché non sa gestire la propria emotività. Quindi noi dobbiamo imparare a riconoscere l'emozione delle altre persone attraverso diverse tecniche. Adesso farò un accenno, le spiegherò completamente, diciamo, e fino in fondo, con esercizi pratici, role play, quindi una qualcosa di molto importante. Nel seminario chiederò a Torino venerdì 2 marzo, che è questo. Fai innamorare con le emozioni, venerdì 2 marzo a Torino, ore 20.45, in corso 3013, in un centro che si chiama Educatorio della Providenza. E il riferimento è 333, 1511703. Benissimo. Quindi, fai innamorare attraverso le emozioni. Significa che noi dobbiamo utilizzare per riconoscere le emozioni nelle altre persone. Poi vedremo anche alcune di queste tecniche possono essere utilizzate per riconoscere le nostre emozioni. Noi possiamo, diciamo, utilizzare i quattro canali della comunicazione non verbale. Quali sono questi quattro canali della comunicazione non verbale? Sono la prossemica, la gestione delle distanze, la cinesica, la gestione della gestualità e della mimica, la paralinguistica, tutti i tratti sopra e sottosegmentali della voce, il tono di voce, il ritmo, la durata, la lunghezza, e poi il contatto fisico. Il contatto fisico che è un altro metodo molto forte di induzione per produrre emozioni. Ecco, quindi, come possiamo fare? Bene, noi dobbiamo, attraverso la gestione della distanza, della prossemica, possiamo capire tantissime emozioni che vive l'altra persona. Se io mi avvicino e poi quando mi allontano l'altra persona mi insegue, è perché gli ho dato possesso e poi glielo tolgo e l'altra persona mi insegue. Mi insegue a livello non verbale, nel senso che si potende in avanti. Sono poi micro segnali che devo andare a cogliere. Beh, in questo caso avrò proprio la consapevolezza del fatto che la persona tende a viversi l'abbandono, tende ad agganciarsi sulle persone che potenzialmente potrebbero abbandonarlo. Sono quelle persone che, da un punto di vista logico-razionale, vogliono una persona nei secoli fedele e sempre disponibile come l'arma dei carabinieri e poi si innamorano del primo fallito o fallita che fa vivere un senso di abbandono. Cioè si dimostra presente e poi scappa. Un'altra cosa importante è il rifiuto. Persone che fanno sempre movimenti di questo genere, anche senza stimoli particolari, tendono sempre a fare movimenti di questa natura qua. E vuol dire, cosa significa questo? Significa che la loro esigenza profonda emotiva è quella di essere rifiutati. E quindi noi possiamo utilizzare appunto queste strategie. Ma ci sono anche molte altre emozioni. Noi possiamo utilizzare ad esempio la paralinguistica. La paralinguistica sono i tratti sopra e sotto segmentali della voce. E usando una voce con un ritmo di questo genere, se osservo che un'altra persona emette un segnale di gradimento, significa che devo farlo desiderare. Perché questo, diciamo, coinvolge le persone che hanno emotivamente bisogno di desiderare. I tratti, i toni duro, il tono duro coinvolge chi ha bisogno di desiderare. Posso usare un tono duro parlando del più del meno, parlando del tempo, ad esempio. Tempo, vedete? Tempo. Sto stimolando da un punto di vista paralinguistica. E quindi dobbiamo renderci conto che chi ama i toni duri deve desiderare. Chi si coinvolge invece su una comunicazione più piacevole, armoniosa, una comunicazione liscia, senza cose particolari, tende a coinvolgersi, è una persona che tende a coinvolgersi, e chi si coinvolge quindi sui toni morbidi, su un po' sul possesso. Quindi una persona che vuole costantemente la presenza dell'altro o dell'altra e tende a coinvolgersi proprio sul possesso. Questo è importante capirlo, perché se io capisco questo, so come rapportarmi con la popolazione, con le persone che mi interessano. Io faccio la prova, emetto il tono duro, emetto il tono mollo, morbido, e vedo se aggancio sul tono duro, se aggancio sul tono mollo. Questo aggancio è un aggancio emotivo, che però trascende la parte emotiva, perché diventa un qualcosa legato proprio alla capacità di gestire la propria vita sociale. Insomma, questo è fondamentale. E quindi noi dobbiamo imparare proprio questo, dalle varie situazioni in cui viviamo, dobbiamo imparare a usare ad esempio la paralinguistica per capire delle informazioni. Poi ci sono altri segnali che possiamo utilizzare per ricoprire, per capire quali sono le emozioni. Sono ad esempio la cinesica. Io potrei fare dei gesti particolari con le mani mentre parlo. Potrei mettere dei segnali particolari e cogliere il tipo di risposta che ricevo dall'altra persona. Ecco, questo deve essere la mia capacità di osservazione, perché senza capacità di osservazione noi non facciamo nulla, mi permette di capire, quest'altra persona che mi interessa, che tipo di stimoli devo dare, quali sono gli stimoli che devo comportarmi in modo più materno, oppure devo comportarmi in modo più paterno, assertivo, duro, rigido, lungo, autoritario, oppure invece è una via di mezzo, insomma, per cui posso essere un po' più blando nelle situazioni, ma comunque coinvolgere il vero emotivo. Quindi questa è la grande sfida che bisogna imparare ad affrontare, a risolvere, quella di essere amati. E giustamente è importantissimo essere amati, e anche però imparare ad amare le persone. Per far innamorare le persone che desideri, ho già dato qualche indicazione utile, ma verranno formalizzate in un seminario che si chiama Fai innamorare con le emozioni, si terrà venerdì 14, no, venerdì 2 marzo, venerdì 2 marzo a Torino, ore 20.45, in corso 30.13 presso l'Educatorio della Providenza, il riferimento è 3.33.15.11.703. venerdì 2 marzo alle ore 20.45 a Torino. E questo è quello di cui volevo parlare comunque in questa live, quindi i toni di voce, anche il tipo di gestualità. Dicevo, posso capire se una persona è più stimolata da un conflitto con l'archetipo femminile oppure più coinvolta con l'archetipo maschile. Però abbiamo questa facoltà, abbiamo questa possibilità di capire, diciamo, quali sono le leve che dobbiamo usare, sia sugli altri che su noi stessi. Bene, per questo video è tutto, vi invito a iscrivervi al canale, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, e mi raccomando l'appuntamento di venerdì, fai innamorare con le emozioni, venerdì 2 marzo a Torino, ore 20.45, corso 30.13, presso l'Educatorio della Providenza, ma comunque mandate un messaggio, il mio numero è 3 3 3 15 11 703. Bene, un saluto a tutte le persone, a presto, ciao!